Un cordiale saluto da Luigi Brecciololi e benvenuti nel nostro appuntamento di Newsmark. In tempo reale l'aggiornamento delle notizie dall'Italia, dal mondo e soprattutto dalla nostra regione. Partiamo subito con le notizie che arrivano dall'Italia. Neonato morto con latte in vena. Domani l'autopsia. Rimossa la direttrice del reparto. Spred in salita in apertura, poi si ferma a 527. Mudis declassa il fondo salva stati. Monti incontra il leader della maggioranza. Oggi Bersani, domani Casini. Bimbo tenuto in ostaggio per far prostituire la madre. Due fermi a Brescia. Queste le notizie più importanti a livello nazionale. Sentiamo le notizie più importanti regionali. Fondi per il porto di Ancona. La commissione regionale incontra Canepa. Dati Union Camere. 4.000 assunzioni entro settembre. Lavoro per cuochi e camerieri. Monti si è dimenticato delle marche, ma la regione non smetterà di lottare. Matteo Ricci sulla spending review del governo. Divieto di uscire. Sedicenne si cala con lenzuola e cade, fratturandosi il bacino a ripe di Senigallia. Queste le notizie più importanti a livello regionale. Per ora andiamo a collegarci con le nostre redazioni locali per avere ulteriore profondità di comunicazione. Lo facciamo subito collegandoci con la nostra redazione di Pesaro. Gabriele Grasso, a te la linea. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. La Federpharma della provincia di Pesaro-Bino aderisce allo sciopero deciso a livello nazionale. Pertanto le farmacie della provincia rimangono chiuse l'intera giornata di oggi per protestare contro gli ulteriori insostenibili tagli contenuti nel decreto legge spending review. Il servizio sarà comunque garantito dalle farmacie di turno. Sono in piena attività due truppe cinematografiche sul Monte Nerone per girare il cortometraggio Erba Stella. Il film nasce da un laboratorio audiovisivo in corso alla Casa degli Artisti di Sant'Anna del Furlo in provincia di Pesaro-Bino che ha visto il patrocinio della Fondazione Marche Cinema Multimedia e la collaborazione del Comune di Piobbico. E tutto, vi restituisco la linea. Grazie Gabriele. Linea ad ancora. Maurizia Gregori. Le notizie dalla redazione di Ancona. È stato convocato per oggi pomeriggio alle 18.30 il Consiglio Comunale di Ancona Tra i punti all'ordine del giorno la nomina dei revisori e la decisione sul project financing per il Pala Veneto. Domani invece riunione del PD che si preannuncia davvero surriscaldata. La spiaggia di Torrette a pochi metri dall'ospedale regionale è in forte degrado. Abbiamo documentato lo stato della costa in un video disponibile sulla nostra pagina Facebook di Radio Conero. Grazie Maurizia. Ora da Ancona a Macerata. Alessandro Ranieri, a te la linea. Buongiorno da Macerata. La notizia che sta un po' preoccupando l'opinione pubblica è quella dell'assalto alla villa del dottor Paolo Nori, pediatra di Civita Nova Marche, che appunto è stato assalito lui e la sua famiglia da tre malviventi. I malviventi sono scappati con circa 2.000 euro di refurtiva, più altro valore in gioielli, per un totale complessivo di circa 10.000 euro. e appunto, come dicevo, tra i cittadini c'è un po' di preoccupazioni, ma le autorità hanno dichiarato di essere vigili nel territorio. Da Macerata ad Ascoli Piceno. Elena Tozzi. Buona giornata e grazie per la linea dalla redazione di Ascoli è fermo. Sono all'incirca una decina i soldati che stanno per essere indagati dalla Procura Militare di Roma per i rapporti sessuali tra sotto ufficiali e soldatesse della caserma di Ascoli Piceno, la stessa dove era in servizio Salvatore Parolisi, caporal maggiore in carcere da un anno per l'omicidio della moglie Melania Rea. A scriverlo è panorama sul numero in edicola oggi e di cui è stata data un'anticipazione. Per il momento è tutto. Grazie Elenia. Concludiamo il giro con la redazione di Senigallia. Alberto Olivieri. Un cordiale saluto dalla redazione di Senigallia. La Rotonda Mare ospita oggi la cerimonia di consegna delle bandiere blu conferite per il 2012 ai comuni marchigiani. La cerimonia si svolgerà a partire dalle 10 e per il comune di Senigallia parteciperà il sindaco Maurizio Mangialardi. Torna Corinaldo Gias, l'edizione numero 14. Sarà ricca di appuntamenti. Le note del grande jazz fra le mura del borgo più bello d'Italia. L'unione fra il carattere storico e artistico di Corinaldo con la profondità e l'armonia dello storico sound afroamericano. Per il 14esimo anno torna Corinaldo Gias, la kermesse musicale completamente gratuita e a ogni edizione porta nel piccolo borgo grandi nomi e grande musica. È tutto. Buona giornata. Ancora notizie dalla nostra regione. Guardiamo questo servizio. Un giorno per l'Emilia è l'evento organizzato dal Circolo Culturale Dino Latini. Il 29 luglio alle ore 21.30 a Sirolo in provincia di Ancona si terrà la serata il cui ricavato sarà destinato alla costruzione di due scuole nei territori colpiti dal terremoto di due mesi fa. La serata sarà presentata da Giorgio Biagioli e Maricla Sediari e sarà arricchita da tanta musica live e soprattutto dalla presenza di tanti giovani. Io sono Luca dei Malox, parteciperemo alla serata per la beneficenza Un giorno per l'Emilia. Siamo veramente contenti, speriamo che saremo accolti dalle persone per questo evento. Con noi ci saranno i Blissell, Tribute Nirvana e Vote for Saki. Ospite eccezionale dell'evento, il grande Albertone. Mi raccomando Gadi, venite tutti. Vi aspetto tutti, vero? Altrimenti mi vi attacco. Ok. Bene, chiudiamo con quattro risate questo nostro appuntamento di oggi. Vi aspettiamo per il prossimo aggiornamento.